E ora... Ehi, faccia da culo! È ferito! Ma non è ancora morto! E allora continuiamo a sparare fino alla fine! Sparate alle consiglie! Fired, non riusciamo a fermarlo! Uso il martello, radiofari o no? Non posso! Senza coordinate distruggerò voi in mezza città! Aspetta, cosa? Jack, no no no, Jack! Che stai facendo? Fired, che succede? Eh, Jack! Jack, sta trasmettendo le coordinate di radiofari! E ha disattivato i miei comandi di fuoco! What? Intelligentissimo bastardo! Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.